buongiorno ragazzi e bentornati sul canale oggi rapida sessione di car fishing sul canale di ostellato sono arrivato stamattina verso le sette e mezza a sette tre quarti ho già posizionato tutte le mie canne adesso faccio un attimo colazione poi dopo vi faccio vedere come ho deciso di approcciare questa rapida sessione a dopo buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci ragazzi, finalmente è arrivata la prima cattura, una bella carpa, intorno ai 9-10 kg, non l'ho pesata ma indicativamente il peso era quello. L'ho catturato su un omino di neve con le nuove Boiless Scopes Cream della Reactor Bite, una piccola pop-up gialla, sempre della stessa linea. E ho calato col barchino, quindi ho utilizzato una manciata delle stesse Boiless e un paio di spalettate di granaglie a circa 3-4 metri dal cannetto della riga apposta. È partita senza pensarci un secondo perché è partita veramente forte, si è sganciato il piombo fortunatamente, così l'ho combattuta senza pesi aggiuntivi. E niente, adesso speriamo che l'attività continui così vi posso far vedere qualche altro bel pesce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . . . . . . . Grazie a tutti. . 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